In questi due giorni abbiamo parlato sia di aeroporti, che di porti, che di autostrade, che di statali, che di provinciali, che di ferrovie, che tutte sommate rappresentano la volontà di questo governo di intervenire concretamente a sbloccare tanti cantieri bloccati in Sicilia. Vi do una bella notizia che è appena arrivata. Il Tribunale di Ravenna ha appena sbloccato i 10 milioni che ANAS potrà dare agli affidatari, che potranno di conseguenza riprendere il lavoro, o meglio, andare avanti a pieno regime per completare la fondamentale strada statale 640, che come sapete ho visitato insieme al Presidente del Consiglio Conte due settimane fa. Gli stessi cittadini siciliani che ho incontrato e avuto modo di incontrare costantemente non sopportano più lo stato di ritardo e di dissesto nella gestione dei circa 300 chilometri di autostrade da parte di un ente controllato al 100% dalla regione. Il 25 febbraio abbiamo avuto un'interlocuzione a Roma con loro. Non è un caso che oggi il Presidente Musumeci abbia nominato una nuova governa, ne sono felice. Ce l'ho incontrata, l'ho invitata tra un mese al Meet per dare delle risposte. Il 25 febbraio si sono presi degli impegni e siccome gli impegni vanno rispettati e non devono rimanere lettera morta, tra un mese li chiamerò e questi impegni si devono trasformare in atti concreti scritti in un nuovo piano economico finanziario, cioè in un rinato e rinnovato accordo dello Stato concedente nei confronti del concessionario regione CAS. CAS oggi è il concessionario di circa 300 chilometri di autostrade in Sicilia. Ed è inadempiente, perché se le do un numero che mi spaventa, immagino che spaventi anche voi, 541 inadempienze, inadempimenti da parte del CAS, conseguenti a controlli da parte dell'ufficio territoriale del Meet. Significa sicurezza non al 100%, e questo non è sopportabile, ma soprattutto è un inadempimento di quanto è scritto nella concessione, che va rispettata. Grazie. 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 Grazie.